Il trend dell'inflazione si mantiene in calo, così la Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta fermo al 4,5%, quello sui depositi al 4%, quello sui prestiti marginali al 4,75%. È la terza riunione consecutiva della BCE in cui il costo del denaro non viene ritoccato. Le motivazioni sono legate all'andamento dell'inflazione, che a parte un effetto base al rialzo legato all'energia, la tendenza al ribasso alla inflazione di fondo è proseguita. I passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento. L'obiettivo è chiaro, il Consiglio Direttivo, si legge nel comunicato, è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2%, a medio termine. In base alla sua attuale valutazione, ritiene che i tassi si collochino su livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al conseguimento dell'obiettivo.